Di padre, che c'è l'occhialità della televisione e non da ricenderlo vicino. Non è impersonabile, no? No, io no, anche. Impossibile. Ma fa un po' di nascita. La raga, la raga, perché sono mucchiati. Ah, che vero? No, perché allora adesso sì. È possibile che non sia l'occhialità. Non è possibile. Non è possibile. L'ultima, eccola. Eccola lì. Ma è incredibile. Non lo so. Incredibile, no? Incredibile. Anche se pia l'angelo dice che sono truppi. Ma che truppo? Ma scelta lui la carta, il mazzo lo scelta lei. Non ho mai visto quei mazzi prima. Non è incredibile. Non è incredibile. Ma adesso non lo scelta lei la nevera. Doviamo invece di poi ciò. Grazie a tutti.